Lavori RFI a Rignano da martedì 20 agosto riprenderà la circolazione dei treni sulla linea convenzionale. Rispettato quindi il cronoprogramma di ferrovie con i convogli che riprenderanno a correre sui binari dalle prime ore di domani mattina. Uno stop reso necessario dagli importanti interventi, giunti quasi al termine, che RFI ha effettuato nei pressi della stazione ferroviaria di Rignano sull'Arno. Lavori che hanno portato al consolidamento strutturale del viadotto in muratura e alla sostituzione delle travate metalliche. In questo periodo, in accordo con la Regione Toscana e di concerto con i comuni limitrofi, sono stati programmati servizi sostitutivi su gomma e 16 corse giornaliere su bus e navetta in aggiunta a quelle ordinarie. Le operazioni hanno fermato la circolazione dei treni sulla linea lenta fra Pontassieve e Figline Valdarno dal 5 agosto fino al 19 di agosto, ma sono state fondamentali in ottica sicurezza. A lavori ultimati, oltre alla riqualificazione estetica e funzionale di tutta l'area, i cittadini di Rignano e San Clemente godranno di benefici quali la riduzione dell'inquinamento acustico e dei rumori da sferragliamento, così come l'innalzamento del sottopasso permetterà un traffico più scorrevole.